Ciao, sono Simone Brancozzi, sono l'ediatore del Cuscotto di Controllo e il coordinatore del Network Nazionale Consulente Aziendale d'Italia. Voglio ritornare sull'argomento del calco del cash flow e dell'analisi dei flussi, perché molti colleghi pensano che questo sia una cosa straordinaria. Bene, io credo che sia la cosa più inutile che si possa fare. C'è una grandezza nell'analisi di bilancio che si chiama capitale circolante netto, che è la differenza fra l'attivo circolante, cioè i crediti, la cassa e il magazzino liquidabile nei 12 mesi, quindi sostanzialmente il capitale circolante lordo è ciò che io ritrarrei in 12 mesi dalla vendita e dalla riscossione del magazzino e dalla riscossione dei crediti, meno i debiti a breve. Quindi se io chiudo oggi, in 12 mesi, se ho CCN positivo, ho i soldi in tasca. Ora che succede? Che se io ho capitale circolante netto, significa che nei 12 mesi ho cassa, ok? E quindi fare l'analisi dei flussi. Ma che senso ha? Ha senso per chi ha capitale circolante netto negativo, cioè chi ha più debiti a breve rispetto all'attivo a breve. Allora a quel punto sì, che siccome devo ingegnarmi su come arrivare a fine mese, devo controllare i flussi. Quindi l'analisi dell'equilibrio finanziario, cari colleghi finanzialisti, non serve farla sui flussi di cassa, bisogna farla sul CCN. E se il CCN è negativo, vuol dire che l'azienda si è finanziata male, cioè le fonti a lungo, capitale netto più debiti di testa a lungo, sono inferiori alle immobilizzazioni, quindi significa che parte delle immobilizzazioni sono state finanziate a breve. Quindi un'azienda che è stata finanziata male, semplicemente va rimessa a posto. Quindi capitale circolante netto negativo, bisogna ometterci un po' di soldini dalla tasca dell'imprenditore, quindi aumento di capitale sociale, bisogna prendere un mutuo per consolidare i debiti a breve, oppure fare qualche accordo con i fornitori o con l'agenzia delle entrate per allungare il debito. Di colpo il CCN diventa positivo e sparisce il problema della cassa. Se invece si continua a mandare avanti un'azienda con il CCN netto negativo, è come andare in giro con una macchina con tre ruote. Non ci può andare, non può esistere un'azienda che ha capitale circolante netto negativo. È come se tu metti il motore di una Ferrari sulla 500 e ci metti le clerche. La macchina va dritta, ma è sicuro che scoppierà per aria, perché il suo debito è troppo. Quindi mettetevi l'anima in pace. St'analisi per flussi non serve a niente. Calcolate il CCN e il capitale circolante netto. Ovviamente nel cuscotto questa cosa viene fatta perché poi il CCN per calcolarlo nemmeno devi chiudere la contabilità, perché siccome il MASA, cioè la differenza fra le fonti a lungo, quindi capitale netto più debiti e terzi a lungo, meno le immobilizzazioni nello stato patrimoniale condensato equivale al CCN, quindi io basta che prendo il TFR, le rentizzazioni e i piani di ammortamento dei mutui, i piani di ammortamento delle rentizzazioni di Equitalia e ho i debiti a lungo. Le immobilizzazioni ce le ho perché registro gli XLM delle fatture, quindi basta senza contabilità fare questo conto e ho calcolato il CCN. Se è negativo bisogna metterci le mani, se è positivo andiamo avanti così. Salve e semplificatevi la vita. Ciao, buon lavoro a tutti.